Musica Bella ragazzi, sono Darryl e sono tornato con un nuovo gameplay su Call of Duty Ghosts E siamo qui con un nuovo live, un live dove vi parleremo di molte... Di un po' di cose, anzi di un'unica cosa, di una classe che vi voglio introdurre per... Perché secondo me è buona per provare a... per tentare a fare le cam Mamma mia quanti sono... Fermi tutti Allora, passo un attimo questo momento e poi vi parlo, perché sono proprio troppi Aspettate... Allora, come vedete sono su frenesia La classe che vi sto per introdurre è una classe ottima per giocare... E' buona soltanto su frenesia, diciamo, per giocare a frenesia e per tentare le cam su frenesia Non su altre modalità Oddio sto per morire Dimmi che ci stai Porca troia Allora, sto a 4 con 1, perfetto Ho visto da un americano praticamente che lui... Usava questa classe... Non riesco a parlare mentre gioco, ok? Allora, praticamente vi stavo dicendo Ho visto un americano che faceva una live streaming di qualche migliaio di anni Praticamente si è fatto dal primo al decimo prestigio in una settimana Penso abbia finito adesso Dove praticamente usava questa classe per fare le cam Lui ne ha mandato la bellezza di 43 Fin ad ora Poi magari ne manda altre in futuro Cioè, sicuramente ne manderà altre in futuro E... Ehm... Come voglio dire appunto è che lui usava questa classe Su tutte... Con tutte le armi praticamente Cioè, era indipendentemente dall'arma questa classe L'importante erano i bonus Infatti, dopo ve la faccio vedere comunque È perfetta perché praticamente unisce i bonus che ti dà frenesia Quando killi il primo avversario A i bonus che poi tu metti Quindi praticamente è quasi come usarli tutti quanti insieme Tutti e 35 i bonus Certo, ne lasciate ancora qualcuno Però comunque sia, bene o male ci siete Tanto dopo un inizio sprint Vado nella merda E non faccio più neanche una kill Perfetto Allora, attesa è qui Dunque ragazzi è faticosissimo parlare mentre si gioca Soprattutto in queste mappe tipo strike Sono Newtown Cazzi vari Perché sono le mappe piccole Comunque ti trovi sempre Un avversario che ti arriva Perciò devi sempre stare comunque concentrato E non riesci mai a parlare Vabbè Comunque sia sono morto 40 volte da dietro Cioè, non vorrei di niente Ehm... Vabbè Questo è lo spawn di Ghost Che ci posso fare? Ancora da dietro Perfetto, vai Su A questo punto gioco Faccio così Gioco così, ok Può essere che magari non mi prendo Vabbè Cioè Non ho parole, va bene Non ho parole E sono anche il primo della mia squadra Pensate come sta messa la mia squadra Ok Si muore ancora? Cioè, ma che cazzo stai facendo tu dietro di me? Vabbè Finita la partita 10-14 Perfetto Non si poteva chiedere di meglio Comunque adesso che c'è l'intermezzo Ve la faccio vedere Questa classe E... Fidate che comunque sia È una classe ottima per... Per arrivare almeno a specialista Poi... Ma poi fate come mi pare Se rivedremo fra poco Ecco, allora Questa qui È la classe Che uso È indipendentemente dall'arma Perché comunque sia l'arma Potete sceglierla voi Qualsiasi va bene Dovete levare tutte Secondarie E dare tattica E come specialità Dovete mettere queste Vi faccio vedere Un po' La schermata Così poi avete tempo Di bloccare il video Come pacchetto serie Specialista Dovete usare queste Quelle in giallo Sono quelle che dovete mettere subito In questo ordine E quelle in blu Sono quelle che mettete a 10 Ok Adesso cerchiamo di cercare Un'altra partita Cioè Sperare di fare Una partita buona Comunque dai Ci vediamo appena comincia la partita Eccoci qua Benissimo Siamo... Abbiamo dovuto ricercare Un'altra partita Perché non... Quella robbie prima Si era chiusa Quindi Con il culo che abbiamo Tanto per variare mappa Abbiamo ritrovato un'altra volta Strikezone Perfetto Almeno cerchiamo di fare Una figura migliore Di quella di prima E comunque Parto con il dirvi che Fare una chem In strikezone In frenesia È veramente difficile Perché praticamente Su 100 kill Si fanno in 20 secondi Netti Perciò O le fate tutte voi Oppure Non ce la fate A fare la chem Perché Ci sono anche Comunque i vostri compagni di squadra Che qualcosa fanno Insomma Anche se sono Il 90% delle volte inutili Comunque sia Anche se fanno una kill Fanno sempre Kill In modo da levarvela a voi E si arriva prima a 100 Oddio Ok Non si sa come l'ho presa il culo E un'altra volta da dietro Ovvio Cioè Ci mancava E vabbè Oggi proprio non è aria Sicuro che di solito Non sono così Schifoso Cioè Non è che sono forte Però comunque Non sono così Dove siete Tutti quanti Guardate Mi escono in due Cioè Io non Proprio Non ho parole Dove siete? Su Fate vedere Esci fuori Esci fuori Da sta nebbia Su Oh Sta qua Sta qua Dove sei? Oh me lo so visto Passa sotto Ma ho flashato Mi sa di sì Va benissimo Ho flashato Ok 10 secondi Esplodo Non c'è bisogno Non c'è bisogno Mi ammazzano prima Ok Sono 5 con 4 Dopo quel 10 Con 12 5 con 5 Vaffanculo Sto a dare dei numeri Non ce la faccio più Non ce la faccio più Ok Gli assist Contra la nuova decisione Ho fatto 40 assist Praticamente Questo sta qua dentro Vaffanculo Oh Sette firmi Magari ti ammazzo Ok Dai Andiamo a fare la chem E infatti Eccola Eccola Chem strike In arrivo Ragazzi Eccola qui Vai vai Ammazza Meso Oh Che è successo Non mi ha ammazzato Fermi tutti Frenisia Vai Cioè Non è possibile Che neanche Strike zone Trovo gli avversari Una partita Che verrà ricordata Nei memorial Proprio Cioè Questo neanche Se è uscito Già mi ha sparato Vabbè Cioè io penso Che non ho mai sbloccato Così tanto con gioco Manco con tutti gli altri God messi insieme Sbrocca così Porca di quella troia No Oh mio dio Oh Attacco chem Oddio Io lo levo Oddio Oddio Ragazzi La chem è arrivata C'è C'è la chem in live E' così E' così C'è Purtroppo C'è la chem in live Sitti tutti Peggio che voi No Ho fatto la chem E' finita la partita Neanche mi ha dato l'uccisione Vabbè Comunque Chem in live Ottenuta Va bene così Giusto Io vi saluto Dopo questa grandissima chem Meritata Meritatissima Bella